Contro la disoccupazione per creare nuovi posti di lavoro, la Lega Nord propone operando un'azione d'opposizione responsabile ma decisa di abbassare il costo del lavoro, agendo sul cuneo fiscale e di rivedere l'intero sistema di tassazioni alle imprese. In quest'ottica si inserisce il nostro progetto che prevede il trattamento del 75% delle tasse nelle regioni del Nord e che ci consentirà di applicare la fiscalità di concorrenza. A parlare è Massimiliano Fedriga, capogruppo in Commissione Lavoro a Montecitorio per il Carroccio. Ebbè è un'ennesima dimostrazione del fallimento della riforma del lavoro fornero dove viene certificato che il crollo delle assunzioni è stato il più pesante dall'inizio della crisi a fine 2012. I propri dati che andavano a verificare l'efficacia della riforma dell'ex ministro del lavoro certificano che quello che ha detto la Lega durante l'approvazione della norma ed anche successivamente si è dimostrato assolutamente vero. Se non si va verso una riduzione del costo del lavoro, un alleggerimento della burocrazia, dell'entrata nel mondo del lavoro, se non si va verso una diminuzione delle imposte alle imprese, molto difficilmente ripartirà l'occupazione nel nostro paese. I dati sul lavoro diffusi oggi fotografano una realtà allarmante. Il livello occupazionale ha infatti toccato il minimo dall'inizio della crisi economica. Stesso discorso anche per i dati che riguardano il settore industria. I dati sull'industria, anche questi, il crollo dei dati sull'industria, mettono alla luce quanto hanno prodotto le riforme e monti, ovvero l'aumento della tassazione e la perdita di competitività di conseguenza delle imprese del nostro paese. Noi abbiamo una pressione fiscale che è decisamente più elevata, anzi delle volte il doppio rispetto dei paesi che confinano col nostro. E quindi è chiaro che finché non riparte l'impresa non si può creare lavoro e l'unico modo per fare ripartire l'impresa è abbassare la pressione fiscale. Per questo il 75% delle tasse che devono rimanere nelle regioni del nord non è una battaglia di bandiera della Lega, ma una battaglia sostanziale perché è l'unico modo per mettere in atto quella fiscalità di vantaggio necessaria per alleggerire la pressione fiscale. Questa è stata la nostra campagna elettorale, questa vuole essere la nostra battaglia da opposizione responsabile ma decisa all'interno delle aule parlamentari.